che cos'è quello gri gri? Dove sta il mare? E com'è il mare? Ti piace il mare? C'è la barca e poi? E poi Cristian che fa al mare? Che fa a Cristian al mare? Il bracciale Scegliamo il caratteristico paese di Cursonaci come base durante la nostra vacanza soprattutto per la sua posizione logistica è un paesino situato proprio al centro della Sicilia nord occidentale ed oltre ad essere molto carino è a sola mezz'ora ad auto di distanza dalle bellezze naturali più affascinanti della zona Il bracciale Grazie a tutti Custo Naci è anche vicinissimo alla Baglia Cornino, proprio sotto il Monte Copano. Questa spiaggetta è il posto ideale per passare ore ed ore al mare tra sole, relax ed immersioni. A Baglia Cornino si può trovare facilmente il diving della guida subacquea Raimond at Zori. Da Baglia Cornino si possono fare immersioni per esplorare i fondali alle pendici del Monte Copano, ma in base alle condizioni meteo e del tempo a disposizione si può arrivare ad immergersi anche fino a San Vito Lo Capo. Scelgo di visitare i fondali decenti allo scoglio dello scialandro, che arrivano fino a 40 metri di profondità. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Paesino caratteristico della Sicilia nord-occidentale, un punto strategico per visitare la zona di San Vito Lo Capo, Erice, si può arrivare in 10 minuti a Trapani ed ottimo punto per fare l'immersione. Ieri ho fatto una stupenda omersione con il signor Raimondo, molto bello, molto bello questo punto, molto strategico. Cristian, sei contento di andare al mare? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!